Apriamo questa serata con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che naturalmente speriamo possa essere d'ispirazione, Leadership is Hard, le sfide di un mondo in continuo cambiamento. E dunque ora io invito a salire su questo palco i relatori che sono il dottor Mauro Conti, direttore scientifico di Hair Clinic Biomedical Group. E poi Olivier Furlan, amministratore delegato di Société General Equipment Finance Italia. Buonasera, benvenuti. Allora il CEO Summit è appunto uno dei nostri format esclusivi che noi soprattutto in queste occasioni giriamo e portiamo avanti e che sarà trasmesso appunto sulle fonti tv perché vorremmo, ci piace, che questo momento appunto sia di ispirazione per tutti coloro che siedono in sala e non solo. E allora, giusto qualche parola in più rispetto ai nostri relatori. Dottor Mauro Conti, direttore scientifico di Hair Clinic Biomedical Group, un progetto medico rivoluzionario per la cura della calvizie riconosciuta a livello europeo e una realtà riconosciuta a livello internazionale. Quindi ampliamo ancora di più gli orizzonti, Olivier Furlan, amministratore delegato di Société Generale Equipment Finance Italia e la società finanziaria specializzata nel leasing per supportare gli investimenti delle piccole e medie imprese produttive per beni strumentali e immobili. E allora la prima domanda mi piacerebbe porla generica, entrambi un po' per rompere anche il ghiaccio. Insomma abbiamo parlato di un periodo complicato, fatto sicuramente di difficoltà ma di sfide, no? Questa doppia valenza che è vero che sembra retorica ma non lo è poi fondamentalmente perché il mondo si evolve, il modo di far business si evolve, quindi il lavoro di conseguenza e le strategie. E mi piacerebbe capire cosa questo periodo che sta continuando e che sta cambiando, cosa vi sta offrendo, qual è il vostro approccio proprio a questo cambiamento, come state guardando al futuro e al presente insomma. E allora partiamo, è la stessa domanda, quindi partirei da Olivier Furlan e poi do la parola al dottor Mauro Conti. Va va, funziona tutto, perfetto. Grazie. Innanzitutto io direi che questo momento è molto particolare perché stiamo vivendo due crisi una dopo l'altra e questo è un impatto per tutti noi. Ma questo viene da molto più lontano, viene molto più lontano perché da più di vent'anni a questa parte c'è stata un'accelerazione incredibile di tanti aspetti. Abbiamo visto la globalizzazione, abbiamo visto come dire la supply chain che si è completamente ricompattata all'estero, abbiamo visto uno sviluppo lato IT di dati, la capacità di calcolare che ha cambiato tutto. Do un esempio ed è molto pragmatico. Covid. Covid si declara nove mesi per fare un vaccino. Dieci anni fa ci voleva tra cinque e dieci anni. Perché? Perché la capacità di calcolo e i dati a disposizione, al di là dei scientifici, ha permesso questo. Questo è il nostro mondo. Quindi dobbiamo avere questo in mente e il secondo punto, ed è questo è contraddittorio, è che il nostro pianeta è finito. nel senso che è un limite fisico e a questo punto noi lo stiamo sfruttando troppo. E la parola che vorrei usare oggi, perché mi sembra molto importante per il futuro, è sostenibilità. Noi non abbiamo mai introdotto sostenibilità nelle nostre economie, nei nostri comportamenti ed è il momento di farlo. con i capelli bianchi, diciamo, sono spesso apostrofato da più giovani che mi dicono ma tu mi lasci un pianeta veramente in disordine? Cosa hai combinato? Io non ho combinato niente, ma chi politici o imprenditori ha lavorato e io incluso abbiamo combinato qualcosa che non va bene. Adesso dobbiamo rettificare questo. E dopo questa grande accelerazione, la domanda è, ma come facciamo per la decelerazione? Io più che decelerazione io direi trasformazione, perché non siamo abituati a trasformare le cose. Noi, per esempio, non riutilizziamo niente, buttiamo le cose, dobbiamo imparare a cambiare comportamento. E questo passa da formazione, cioè non si tratta solo di giovani che devono essere formati a scuola, eccetera, ma di tutti noi. Dobbiamo veramente cambiare mentalità e questo non è un specifico italiano, è globale, tutti. Altrimenti corriamo verso l'impossibile, nel senso il pianeta finito, le tempeste, le crisi, le malattie, eccetera, eccetera. Quindi questa è la sfida, la sostenibilità. E soprattutto il momento di agire. Esattamente. Ne parliamo e basta. Di accelerare. E noi di finanza in tutto questo direte, ma cosa volete fare? Io direi che i politici ci usano e fanno molto bene, perché il denaro è la chiave per cambiare i comportamenti. Quindi mettendo la pressione sugli attori finanziari, questo permette di cominciare a finanziare chi è più sostenibile, finanziare meno chi gli vuole meno, o far cambiare comportamenti a chi gli vuole meno per farlo andare nella direzione giusta. Quindi io penso che sia una chiave perfettamente adeguata. Ottimo. Sostenibilità. Beh, sicuramente è una parola chiave che dobbiamo tutti, tutti assolutamente rendere nostra. Dottor Mauro Conti, stessa cosa? L'approccio, cambiamento, evoluzione? Come avete declinato un po' tutto questo? Allora, la cosa senz'altro che ha cambiato il nostro modo di lavorare in questi due anni è renderci conto che il nostro approccio terapeutico, che andava ben oltre il miglioramento estetico che tante persone ovviamente vogliono, passa e dovrà sempre di più passare da un percorso terapeutico unico ed inclusivo. Unico perché ogni persona ha mille motivi per avere delle problematiche di sofferenza dei follicoli e la nostra mentalità scientifica spesso ha cercato di semplificare e di dare terapie facili, scorciatoie. Questo momento del Covid invece è stato un momento in cui sempre di più abbiamo notato che le persone, oltre a problematiche fisiopatologiche, ormone maschile, ovaio policistico, problemi di tiroide, problemi di alimentazione, in questo grandissimo momento di fragilità hanno avuto una defiance della loro immagine e una caduta dei capelli massiva. Cioè sono i pazienti che stavano bene per colpa anche della vaccinazione, di come hanno reagito alla vaccinazione, tantissimi hanno avuto un aumento della caduta dei capelli, ma tante altre persone hanno avuto per un'accentuazione del disagio psicologico che tutti noi abbiamo vissuto. E quindi concludo nel dire che gli scenari che ci hanno sempre distinto il considerare il problema della caduta dei capelli un fatto clinico e non un fatto estetico ci permettono oggi di dire sempre di più è fondamentale curare l'uomo, sempre di più è importante considerarlo unico e fare in modo che un grande rapporto medico-paziente insieme a quello che ci mette a disposizione la scienza possa dare dei risultati importanti e duraturi. Quindi una grande alanza terapeutica. Ecco il covid oggi, gli scenari del futuro ci insegnano questo. Va bene, poi anche con lei torno su questo punto, però torno da Olive Furlan, una domanda un po' provocatoria che poi non lo è, sempre in prospettiva per capire un po' quali sono le prospettive. Intanto mi piacerebbe capire con lei come vede la situazione italiana. Prima abbiamo già parlato della necessità di portare avanti i temi come la sostenibilità, ma quali altri aspetti insomma bisognerebbe guardare in questo momento. Però anche questo punto che ci ha dato appunto il dottor Conti, è vero poi che ciò che è successo, il covid ha rimesso al centro l'uomo? Si è detto tante volte, no? Un ritorno un po' ad altri tempi in cui non si consideravano gli uomini un insieme, quasi come una macchina, vedo che è un po' scettico, no? E' così. E questa è la domanda provocatoria, però per da legare appunto alle prospettive che oggi abbiamo di fronte, a quello che ci attendiamo anche dalla situazione italiana. Ecco, leghiamo tutti questi elementi. Sì, allora, per me il covid è un acceleratore. Ovviamente lo vedo in modo diverso perché non sono uno scientifico né un medico. L'approccio è diverso. È molto diverso perché la prima cosa è noi non pensavamo di poter lavorare fuori dall'ufficio. Nella nostra azienda in due settimane siamo passati dal 5% al 100%. Ha funzionato perfettamente. Due anni dopo abbiamo discusso con i sindacati a passare allo smart working. È stato un attimo. Due anni prima alla stessa negoziazione avrei messo un anno. Cosa voglio dire? Vuol dire che uno l'uomo si adatta molto velocemente alle situazioni, questo è ovvio, ma sicuramente c'è un cambiamento. C'è un cambiamento di atteggiamento e dobbiamo stare molto attenti perché non andare troppo lontano, perché adesso quello che vedo, e vedo altri aspetti psicologici ma diversi, trovo che adesso dobbiamo stare attenti alla socializzazione. Cioè fare in modo di permettere alle persone di lavorare insieme, non solo da remoto, perché questo è un momento fondamentale. Il CEO di Apple, che non è uno sproveduto, viene sempre in ufficio e chiede di andare nelle riunioni molto spesso. E dice, ma non è il punto, non è la riunione per me, sono i cinque minuti prima e i cinque minuti dopo. Perché in questi due volte cinque minuti ricevo tante informazioni che sono fondamentali per il bene della mia azienda. ha totalmente ragione, perché non si tratta solo di lavoro, si tratta di lavorare con delle persone. Noi società finanziarie di cosa siamo fatti? Di persone. Certo, un po' di IT, tutto quello che vogliamo, ma fondamentalmente di persone. Se queste persone non lavorano bene insieme, allora non va bene. Allora, tornando alla domanda che è più su quali sono le sfide, eccetera, lì la situazione per me è totalmente contraddittoria. Perché da una parte vedo un pericolo allucinante a livello finanziario sull'Italia, bisogna vedere il BTP al 4%, che come per me è il limite rosso, ed è per quello che la BCE è intervenuta con il nuovo programma di aiuto. E vediamo, e questa è una difficoltà, e dall'altra parte un'opportunità gigantesca col PNR di fare il secondo salto su la centralità dell'Italia, che sono le piccole e medie imprese. Perché dico il secondo salto? Perché il primo è stato fatto. Ricordatevi che con tutte le misure che sono state prese negli ultimi dieci anni, l'Italia delle PME si è digitalizzata. Non si è visto, ma questo ha reso l'Italia molto competitiva. Adesso deve fare il secondo passo, diventare verde, fare la sua transizione, ottimizzare le sue risorse, usare meglio l'energia, eccetera, eccetera. E lì di dentro il nostro ruolo è accompagnare, diciamo, queste aziende, ma non solo perché le finanziamo, ovvio che le finanziamo, no, andando dalle autorità per dare delle guidance, per permettere di far confluire i soldi del PNR non solo sulle grandi aziende o sullo Stato, ma anche su questo centro di gravità che sono le piccole e medie aziende italiane. E dove lavorano, insomma, se mi ricordo bene, il 95% della popolazione lavorativa italiana. Certo. Ottimo. Ecco, ripartiamo anche da qui, unendo sempre quella provocazione, no, sul fatto, se sia vero poi, che è cambiato anche il modo di vedere le persone. Io me lo auguro. Anche perché attraverso un modo diverso di socializzare, perché di fatto è ovvio che sia così, no, abbiamo imparato tutti a rapportarci alle persone in modo diverso, anche al lavoro stesso, insomma, abbiamo scoperto nuovi modi di avere a che fare con le persone, sia sul lavoro che non. Quindi, insomma, inevitabilmente un approccio è cambiato anche in quel senso. E quindi, anche per lei, le chiedo, insomma, quali sono ancora una volta le sfide più imminenti, però magari concentrandoci di più sulla situazione attuale italiana. Come la vede, insomma, in generale? Allargando un po' gli orizzonti, a partire dalla vostra esperienza, sempre naturalmente. Ma sicuramente oggi i pazienti hanno voglia di tornare a essere al centro. E quindi noi dobbiamo fare la cosa più semplice. Accoglierli e il primo dovere del medico, oltre a curarlo, a curare i pazienti, consolarli. Sembrerà strano, ma nella medicina di oggi, che fa uso di tecnica, viva Dio, di scienza, noi sempre di più abbiamo bisogno di questi ingredienti. Quindi, di ristabilire un rapporto cibernetico, nella quale, da un punto di vista proprio di guida, il chiuberna, cioè il medico è il timoniere di questo rapporto medico-paziente. E da questo punto di vista, la scienza è quello che ci unisce per migliorare, ma insieme al cuore una grande interazione. Ecco, sempre di più oggi dobbiamo rivedere e aggiornare i paradigmi della necessità della scienza, però funzionali, a un grande rapporto umano. Certo, è un po' come quando si dice ma le macchine stanno scurando l'uomo, adesso è molto banale, però no, perché è l'uomo che deve poi farle andare, queste macchine non è che si creano da sole. Ecco, quando arriveremo a quel momento potremmo avere un po' di paura, che potremmo essere sostituiti, ma insomma l'autocreazione ancora mi sembra abbastanza così astratta e fantascientifica. Allora, per arrivare anche a conclusione, però non possiamo non parlare del futuro, Furlan, cosa mettere a questo punto, gliela pongo così la domanda, nel palmare dei desideri, dove però i desideri sono cose concrete, no? Proprio basandoci su quello che abbiamo a disposizione oggi. Domanda difficile. E beh, il futuro del resto è la parte più difficile, no? Perché ovviamente, però insomma, progetti, rendendola ancora più terra terra, insomma, quali sono le vostre priorità per il futuro? Allora, io direi che io non parlerei di me, io parlerei delle aziende in generale. Certo. Io penso che c'è un punto fondamentale che è stato dimenticato, è la formazione. E il fatto di generare la capacità a giovani di fare l'alternanza, scuola-lavoro, è veramente fondamentale. Questo manca. Ed è un peccato perché, di nuovo parlando delle piccole e medie aziende, anche molto piccole aziende, artigiani, eccetera, spesso non hanno, come dire, possibilità di successione perché dietro di loro c'è poca gente formata. E il fatto di andare nella direzione che sto dicendo favorirebbe l'emergenza di giovani o medio-giovani per queste successioni. ed è veramente fondamentale perché, di nuovo, quando vediamo la capacità e la flessibilità di tutte queste aziende, lo vediamo oggi in questa crisi. L'Italia, in una piena crisi, sta crescendo grazie alla flessibilità di questi imprenditori. Quindi bisogna tenere questo come centralità e bisogna fare uno sforzo veramente forte su questo aspetto. Io credo che nel PNR ci sia una voce abbastanza grande dedicata a quello. Mi auguro che venga veramente utilizzata perché è fondamentale. Il secondo punto, che corrisponde alla sostenibilità, è imparare a riutilizzare, imparare a riutilizzare. Noi non abbiamo mai imparato, non solo italiana, ma tutti a riutilizzare. E questo lo dobbiamo fare perché, di nuovo, non è possibile che ogni 15 luglio di ogni anno noi abbiamo utilizzato tutte le risorse del pianeta per l'anno intero. certo. Questo non è possibile. Dobbiamo tornare indietro e allungare la vita, cioè passare al 30 di luglio, più al 15 di agosto, eccetera, eccetera, per arrivare al 31 dicembre. Perché altrimenti succederà quello che vediamo, 40 gradi a maggio, tempeste ovunque, problemi di sanità, epidemie, eccetera, eccetera. Quindi, in realtà il pianeta ci dirà molto chiaramente cosa dobbiamo fare, però adesso lo sappiamo, quindi possiamo anticipare. Anzi, anticipare non tanto perché avremmo già dovuto anticipare. Siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo, ma siamo ancora in tempo. Però bisogna agire, sicuramente. Ha toccato dei punti importantissimi, l'ambiente come prima, lo spreco, insomma, quindi il fatto di cambiare anche la mentalità. E poi la giusta sottolineatura sul tessuto imprenditoriale italiano, che è quello che veramente resiste e dà l'impronta al nostro paese, all'Italia, per poter continuare nelle sfide, sperando che poi, insomma, anche a livello istituzionale vengano riconosciuti questi sforzi. Lanciamo anche un'altra piccola provocazione. Dottor Conti, anche a lei, insomma, cosa vuole diventare Air Clinic nel futuro? Ovviamente lei ha già raccontato una realtà leader nel settore, quindi sicuramente è bello anche questo approccio che si rifà un po' all'umanesimo, no? Mettere al centro, insomma, il cliente è sempre al centro, però ci ha insegnato questo periodo che ancora di più bisogna farlo. Cosa vorreste diventare nel futuro, proprio alla luce anche di queste esperienze che non avevamo previsto, perché non le avevamo previste? Allora, la nostra ambizione è chiara. La nostra ambizione nasce dalla consapevolezza che la nostra mentalità latina è anni luce, avanti una mentalità anglosassone, almeno nel mondo della medicina, nel rapporto con l'uomo, che spersonalizza l'uomo. La nostra mentalità rinascimentale è una mentalità straordinaria, perché considera ogni persona diversa da un'altra. E non siamo sotto una curva campana di Gauss, da un punto di vista medico siamo tutti diversi. La parola d'ordine oggi è unicità del paziente e unicità della terapia. La parola d'ordine oggi e del prossimo futuro è inclusività, quindi un protocollo terapeutico da proporre a livello europeo, come stiamo già facendo, che non esclude trapianto o medicina, farmaci o altre terapie, ma le ingloba e le personalizza per dare a ogni paziente il suo miglior percorso. La terza parola d'ordine è consapevolezza. Noi, a livello italiano siamo veramente in grado di insegnare a tutti come bisogna approcciarsi a un paziente e portare a casa per lui i migliori risultati. Abbiamo mille limiti, però da un punto di vista di approccio questa mentalità che, come diceva il dottore, non fa uso di sostenibilità, ma considera i pazienti come dei consumatori. È una mentalità che ha fatto il suo tempo. Noi oggi che siamo i pionieri della medicina rigenerativa, una nuova medicina che si associa ai farmaci e alla chirurgia, cosa c'è di più rivoluzionario di sfruttare le nostre forze riparatrici, le nostre cellule, le nostre proteine che possono far tornare in attività i nostri follicoli, far crescere i capelli, migliorare un ginocchio infiammato, migliorare il nostro corpo. Cosa c'è di più straordinario che far uso della nostra forza medicamentosa? Ecco, concludo nel dire che lo scenario di oggi ci ha aperto la consapevolezza che il clinic vuole diventare un hub rigenerativo, terapeutico, inclusivo a livello europeo, affinché le persone possono trovare la loro migliore terapia e soprattutto una guida nel tempo, perché purtroppo ad oggi la calvizie non è guaribile, ma è curabile, ed è curabile solo con un grande rapporto medico-paziente. Ecco, quindi la parola con cui possiamo concludere è benessere, a partire dall'ambiente, poi a cascata, insomma, arriva, non che l'uomo sia l'ultimo elemento, cioè il meno importante, ma è quello che poi usufruisce di tutto quanto, quindi, insomma, ingloba il benessere che arriva da un qualcosa di più ampio, mettiamola così. Io vi ringrazio moltissimo. Sono emersi anche punti non scontati, quindi ringrazio tantissimo il dottor Mauro Conti, direttore scientifico di Arquimic Biomedical Group e naturalmente Olivia Furlan, amministratore delegato di Società Generale Piemonte Finanza Italia. Grazie.